E per il celebrare, in questo sacro rito eucaristico, il suffragio dell'anima di Umberto II, tanto amato e molto volentabile, del trentennale del suo ritorno alla casa del Padre, invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria, venerata in questo santuario, noi che preghiamo. Per gli italiani, fedeli al sacro, no mio Dio, patria, famiglia, nel solco perenne della millenaria tradizione cristiana, qui rappresentati da questa assemblea, unitamente i propri principi sabaudi, affinché le sfoglie degli ultimi sovrani d'Italia, trovino finalmente a riposo e entro i sacri confini della patria, invocando l'intercessione di San Maurizio. Maria, la trono di Casa Savoia, le armi d'Italia, i suoi figli alpini, noi preghiamo. Grazie. Grazie.